Eccoci qua, eccoci qua, è partita la registrazione, puoi anche chiudere la console, perfetto. DJ Dave Marini, attenzione, è partito subito. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, buon venerdì, siamo qua con il nostro solito venerdì webinar, ripartiamo dopo qualche settimana di stop post meeting e oggi parleremo di tante cose molto interessanti, tra l'altro webinar delle grandi occasioni, siamo oltre 120, siamo ormai, quindi arriveranno tante persone. Ciao a tutti, buon pomeriggio, avete preso il caffè, siete pronti, possiamo partire, siete caldi. Allora, Davide, accendi pure il microfono, ciao a tutti, buonasera. Adesso ti metto a te, dovrebbero vederti tutti, mi metto anche io, così dovrebbero vederci noi due direttamente. Allora, oggi webinar su New Security, nuova versione New Security, abbiamo un po' progettato con Davide, con l'idea di aggiornarvi, far vedere tutto quello che c'è di novità, di New Security, sia per chi ha già visto un po' di cose al nostro meeting, sia per chi non c'era, vuol vedere un pochino tutto quello che sono le differenze con la vecchia versione, i nuovi pannelli, i nuovi moduli che sono usciti nel frattempo e un'eventuale roadmap un po' per il futuro, per capire anche dove stiamo andando. E non da ultimo, anche per capire anche come provarlo in anteprima. Siamo già partiti, l'abbiamo già annunciato un po' di tempo fa nella nostra community, un sacco di persone hanno cominciato già a testarlo. Oggi abbiamo annunciato che il nostro quality team di New Security, formato dalle persone che ci stanno dando tanti feedback in merito, per cui oggi è il webinar in cui Davide ci racconta tante cose belle. Per cui, dato che direi che ci siamo un po' tutti, anche se stanno arrivando, continuano a entrare un sacco di gente, per cui venerdì webinar su New Security 8, possiamo partire con Davide. Per chi non lo conoscesse, oramai chi non lo conosce Davide, quindi non c'è bisogno di presentarlo. Per chi non ci conosce, per chi non lo conosce, lo conoscerà in qualche modo. Per cui partiamo, vai Davide, tutto tuo. Perfetto, buonasera a tutti. Come diceva Alessio, facciamo questo webinar per vedere un po' lo stato attuale del Firewall. Come sapete, abbiamo rilasciato la versione Alfa 1 già circa in concomitanza con il meeting, diversi l'hanno già provata. Oggi andiamo a vedere dove siamo arrivati, quindi anche per spingervi un po' a, per chi è un po' curioso, a provarla, così iniziare a metterci un pochino le mani per iniziare a vedere di che pasta è fatto il nuovo Firewall. Cosa vediamo in questo webinar? Vedremo le caratteristiche fondamentali di NetSecurity 8, vi daremo alcune indicazioni pratiche per l'installazione, per chi lo vuol provare perché chiaramente moltissime cose sono cambiate, noi pensiamo in meglio. Poi vedremo una panoramica sull'interfaccia, su quello che si può fare da già con questo prodotto, vi daremo indicazioni anche per un'eventuale migrazione, anche se questo è diciamo più a livello di informazione, anche perché considerando che siamo ad una Alfa 2 fondamentalmente la migrazione sarà utile un po' più in avanti quando avremo qualcosa di più stabile. Però è molto interessante e bene conoscerla. E poi anche la parte di Roadmap, sicuramente per sapere quali saranno i prossimi step e quando potremo iniziare a utilizzarlo anche in produzione, of course. Quindi vediamo quali sono le caratteristiche di NetSecurity 8, perché abbiamo fatto questo NetSecurity 8. Allora, sicuramente c'è tutta la parte di connettività che è molto ben fornita con ovviamente il supporto MultiOne, ma anche supporto a IPv6 oppure il fatto di utilizzare le PPPoE, anche multiple, quindi tutto un sacco di novità che ci portiamo in dote con questa nuova versione. Il filtraggio del traffico che fondamentalmente rimane traffico che viene analizzato senza più nessun tipo di proxy, poi dopo lo vedremo. questo per cercare di non modificare minimamente quello che viene generato e quindi per agire quindi bloccando o meno, però senza andare ad apportare modifiche che poi dopo a volte possono rendere difficile anche il troubleshooting. Chiaramente rimane tutta la parte di accesso remoto con Port Forward, Reverse Proxy e le classiche VPN che saranno espanse sempre di più. e ovviamente tra le varie caratteristiche, chi l'ha già provato lo sa già, diciamo c'è la velocità, quindi la velocità era una delle cose che ci interessava avere sia come utilizzo, sia a livello di installazione e l'affidabilità che chiaramente ci assicura il sottosistema su cui ci appoggiamo e una delle nostre caratteristiche fondamentali che vogliamo mantenere è che è la semplicità, ovvero riuscire a configurare qualcosa anche di molto complesso però con pochi click e in maniera rapida. Tra le varie caratteristiche, allora abbiamo che questo sistema a differenza di, quindi in questo webinar molto mi orienterò anche diciamo per differenze con il sistema attuale, a differenza del sistema attuale NetSecurity 8 non è modulare, nasce per fare solo il firewall, UTM e quindi ci abbiamo già messo dentro tutto, non c'è bisogno di installare degli altri pacchetti, non serve un package manager quindi per personalizzarsi un po' l'installazione. Questo significa che nel momento in cui l'andate ad installare è un sistema già pronto all'uso con una grande riduzione dei tempi di preparazione. Alcune particolarità, questo sistema ha già il supporto al factory reset diciamo nativo, quindi dalla nostra UI potremmo già andare a resettare il sistema e riportarlo alle impostazioni di fabbrica e quindi questo è sicuramente molto comodo anche per velocizzare un po' il tutto, anche per ridurre un po' quella dipendenza da chiavetta USB che abbiamo attualmente. A livello di aggiornamenti cambia la filosofia che c'era su NetServer 7 che era fondamentalmente una rolling release, ovvero nel momento in cui è uscito NetServer 7 eravamo alla versione 7.2 mi sembra o .3 poi in automatico senza riavvi, senza nulla siamo arrivati alla versione 7.9. In questo caso cambia questo tipo di comportamento e abbiamo due tipi di aggiornamenti di cui parleremo anche dopo, quindi alcuni che sono minori, che riguardano bug fix e piccole migliorie che possono essere fatti in automatico e non hanno necessità di un reboot e invece un aggiornamento più pesante che significa riscrivere tutto quanto il sistema con una nuova versione che tipicamente si fa quando esce una nuova versione che porta delle nuove funzionalità, un supporto all'ardo e migliorato, eccetera. Quindi anche se questo tipo di passaggio è molto rapido, anche se richiede un reboot, poi dopo lo vedremo un po' più in dettaglio. Ma vediamo dove si può installare NetSecurity e come si può iniziare a provare. Quindi dove possiamo installarlo? Fondamentalmente su qualsiasi piattaforma o quasi, di sicuro su tutte quelle che stiamo già utilizzando. Vediamo subito quali sono i requisiti hardware minimi e appunto quale hardware è supportato. L'infrastruttura, cioè la base su cui ci siamo appoggiati, che OpenWrt è una cosa nota di cui abbiamo parlato a lungo, è fatta per essere installata anche su hardware molto piccoli e poco performanti. Quindi questa cosa ci torna molto comoda anche per quanto riguarda la nostra installazione. I requisiti minimi sono molto molto bassi, quindi almeno una macchina con un core, un giga di RAM, un giga di spazio disco e almeno due schede Ethernet, visto che stiamo parlando di un firewall. Raccomandati, ne raccomandiamo almeno due core e almeno due giga di RAM. Poi dopo questo dipende chiaramente anche a seconda della complessità dell'ambiente in cui si vorrà andare a mettere. Però diciamo che i requisiti di installazione sono molto più bassi di quelli che ha il NetSecurity attuale. E per quanto riguarda la parte di compatibilità, abbiamo grande compatibilità. Considerate che tutti i box che abbiamo adesso, diciamo nella nostra linea, sono già supportati da NetSecurity 8 e anche moltissimi dei box precedenti che sono a 64 bit, fondamentalmente indicativamente tutti i box fino al 2017, qualcosa del genere. quindi c'è anche una possibilità di riutilizzo dell'hardware. Questo ecco per quanto riguarda la parte box. Per quanto riguarda il discorso bare metal, quindi la capacità di, la possibilità di prendersi un server e farsi un server in casa, finora in tutti i test che abbiamo fatto non abbiamo mai riscontrato problematiche e comunque sicuramente abbiamo un'elevata compatibilità che ci è assicurata dal kernel Linux 5, quindi abbiamo un kernel Linux molto più recente di quello che ad esempio abbiamo adesso su NetSecurity 7 che ci assicura anche una maggiore compatibilità in realtà anche con le schede di rete più recenti tipo penso ad esempio le schede di rete a 2 gigabit e mezzo che su NetSecurity 7 non sono ben supportate mentre su questa versione funzionano perfettamente. E per quanto riguarda comunque il fatto di installarlo su una macchina server, su bare metal, abbiamo già predisposto l'invio di informazioni, di inventario, quindi schede di rete e cose analoghe su un nostro centro in modo che in futuro potremo anche verificare se un hardware specifico è già stato utilizzato in altre installazioni in modo da avere già una base di hardware che sappiamo essere funzionante. Comunque diciamo in linea di massima non ci aspettiamo particolari problemi. Ovviamente abbiamo anche la parte di Hypervisor, quindi le macchine virtuali. Supportiamo le piattaforme più comuni quindi da Proxmox, anche IBM, a VMware, VirtualBox, eccetera. Per questo ci rifacciamo chiaramente alla compatibilità data da OpenWrt, quindi fondamentalmente non abbiamo neanche da questo punto di vista ci sono problemi. e andiamo a vedere come funziona invece l'installazione perché questa è molto diversa rispetto a quella attuale. Allora, prima di tutto abbiamo una immagine di installazione che è molto più piccola rispetto a quella di NetSecurity 7. Attualmente occupa circa 300 megabyte che poi si riducono a circa 50 compressa, 51-52 a seconda dei casi. E il fatto è che non c'è un installatore in senso stretto ma in pratica l'immagine è un'immagine avviabile che va scritta direttamente nel disco, quindi nello storage che vogliamo andare ad utilizzare. Quindi scriviamo questa immagine direttamente e il sistema già si avvia e parte. Quindi non c'è, come dicevo, una vera e propria procedura di installazione che anche questo ci aiuta a ridurre i tempi di installazione. Una particolarità della nuova versione, non abbiamo più la parte di supporto al write software automatico che c'era su NetSecurity 7, NetServer 7, anche perché è una cosa che nasce più per un tipo di utilizzo server rispetto al firewall. Ma questo non dovrebbe rappresentare un problema in quanto in questo nuovo tipo di gestione andiamo anche a scrivere molto di meno nel disco, quasi mai fondamentalmente, e quindi questo comporta anche una maggior durata dei dischi rispetto magari a quello che poteva essere in precedenza. Detto questo, se poi dovessero esserci richieste, valuteremo anche il fatto di implementare questa cosa, ma per adesso sembra che non sia necessario avere un write software. Quindi torniamo alla parte di installazione. Se avete una macchina virtuale, fondamentalmente basta che vi create un disco virtuale partendo dall'immagine che noi andiamo a rilasciare, quindi che a seconda dei casi potrà essere l'immagine stessa, per esempio se usate KVM, oppure dovrà essere convertito in un formato supportato dal vostro hypervisor e poi collegare il vostro disco che avete creato come storage e avviare la VM senza fare nient'altro. Mentre per quanto riguarda la parte di macchine fisiche che potete andare ad installare, fondamentalmente avete due possibilità. La prima che è la scrittura dell'immagine sullo storage da un altro sistema, quindi esattamente quella che abbiamo visto per le virtual machine fatto diciamo su fisico, quindi prendete un disco oppure uno storage di un qualche tipo, lo scrivete con un altro sistema e poi lo mettete sulla macchina dove deve essere utilizzato. Oppure potete avviare questa macchina dove dovete installare tutto tramite una chiavetta USB dove è stata scritta l'immagine e il fatto di avere questa chiavetta USB ci apre delle possibilità che attualmente non erano possibili perché di fatto attualmente l'immagine se voi l'andate a scrivere su una chiave USB di fatto avete una chiavetta avviabile che vi fa partire già un NetSecurity 8 che gira in RAM e potete già utilizzarlo senza avere uno storage interno. Quindi questo vi permette ad esempio se volete anche di provarlo vi scrivete una chiavetta la collegate al vostro apparato lo fate partire da USB potete già utilizzare un NetSecurity così senza toccare minimamente il vostro storage. Mentre se volete installarlo su uno storage per poi chiaramente togliervi di mezzo la chiavetta e utilizzarlo come avete sempre fatto una volta che l'avete avviato dalla chiavetta potete usare il comando NS install che vi permette di scrivere il vostro storage quindi se voi eseguite NS install il sistema vi chiederà dove lo volete utilizzare adesso in questo esempio in questo screenshot è stato fatto per esempio con una macchina virtuale questo sarebbe diciamo l'equivalente della vostra chiavetta USB questo è l'equivalente del vostro disco che non è utilizzato in questo momento e voi gli dite dove volete scrivere. A quel punto il sistema va a scrivere il vostro storage poi potete togliere la chiavetta e nel momento in cui lo avviate lui parte con il sistema dal vostro storage quindi è molto semplice anche in questo caso. Parlando di installazione dobbiamo parlare anche di migrazione come dicevo prima il tool di migrazione tra l'altro al momento adesso stiamo per passare all'Alpha 2 per il momento conviene aspettare un attimo il passaggio all'Alpha 2 prima di utilizzarlo ma immagino che non sia sicuramente la cosa principale che vi interesserà in questo momento è un tool che abbiamo studiato per agevolarvi il passaggio alla nuova piattaforma senza dover riconfigurare di nuovo il firewall da zero e come funziona? In pratica si tratta di un'applicazione per NetServer 7 che andate ad installare che vi permette poi di generare delle configurazioni oppure di fare una migrazione in place di gestire un po' questa migrazione quindi voi installate questo tool sul vostro NetSecurity 7 NetServer 7 il tool vi esporta queste configurazioni quindi la maggior parte se non quasi tutte le configurazioni ovvero tutte quelle che può esportare al momento e vi informa se alcune configurazioni non sono state esportate ad esempio in questo esempio ad esempio mi dice che le configurazioni del filtro applicativo non verranno esportate questo perché il modulo che utilizziamo su NetSecurity 8 è totalmente differente e quindi non sarebbe possibile fare un export diretto talmente tra l'altro il nuovo modulo ci dà anche delle possibilità in più molto più interessanti di quello attuale per cui conviene partire un attimo da zero e lavorare subito con le possibilità che ci dà il nuovo software e poi ci sono alcune configurazioni che non possono essere migrate e mai lo saranno adesso in questo caso qua c'è la parte di template custom perché essendo una cosa custom non è possibile metterla in un processo standardizzato per l'appunto come una migrazione ma va analizzato di volta in volta vanno recreate le varie funzioni sul nuovo firewall che tra l'altro molto probabilmente non richiederanno template custom ma sono cose che si potrebbero fare direttamente da interfaccia web e il Macbinding che attualmente non è stato ancora esposto sull'interfaccia e verrà realizzato più avanti dunque cose diciamo piccole non cose che riguardano il 100% delle installazioni e la migrazione come dicevo prima vi dà varie possibilità e potete utilizzarla per fare una migrazione sullo stesso hardware farla su un hardware differente ad esempio se su quell'hardware voi avete sia NetSecurity che degli altri servizi tipo il centralino oppure dei servizi di NetService quindi volete spostare il firewall potete utilizzare questa modalità che vi permette di ripristinarlo su un altro hardware oppure potete utilizzarla per fare un test non distruttivo della migrazione per vedere se effettivamente ha migrato correttamente tutto quello che vi serve prima di eseguirlo ve le faccio subito vedere la prima modalità è quella che vi permette di generare un archivio compatibile con NetSecurity 8 che potete esportare e che poi potete reimportare su NetSecurity 8 ed è una cosa simile ad un ripristino di un backup c'è una fase di remapping delle schede di rete e poi fondamentalmente si va ad applicare a fare il restore diciamo di questa di questa configurazione la seconda è un download di un'immagine completa questa modalità vi permette di scaricare una immagine avviabile che abbia già le impostazioni che abbiamo migrato con questa immagine potete poi scriverla su una chiavetta USB ed ad esempio eseguirla sullo stesso hardware dove poi dopo voi volete fare la migrazione vera e propria quindi se volete fare una migrazione sullo stesso hardware prima ve la potete testare con questa immagine vedere che va tutto quanto bene e poi dopo procedere e l'ultima che è la migrazione è la vera e propria migrazione in place ovvero in quell'hardware dove in questo momento gira NetSecurity 7 andiamo a riscrivere tutto quanto lo storage con NetSecurity 8 e ci prendiamo tutte le configurazioni migrate per NetSecurity 8 e questo è chiaramente da utilizzare solo su NetServer 7 cioè su NetServer 7 che svolgono solo il compito di Firewall oppure se svolgono attualmente altri compiti altri li abbiamo già spostati su altre piattaforme quindi possiamo cancellare lo storage senza nessun tipo di problema o di o di rischio vi ho detto che alcune cose non sono fattibili quindi alcune opzioni non sono non sono migrabili vi parlo molto velocemente di alcuni moduli che sono stati rimossi oppure sostituiti per vari motivi NetOpenG è stato tolto perché al suo posto abbiamo NetifyD che è un modulo che ci permette di analizzare tutto il traffico riconoscere riconoscere il traffico applicativo e poi sia di generare blocchi generare report eccetera quindi ci permette di lavorare in maniera molto efficace sul traffico applicativo poi come vi dicevo prima il proxy web il proxy web abbiamo preferito rimuoverlo per diversi motivi sia perché non è più così al centro diciamo del del traffico in generale perché il traffico ormai è prevalentemente applicativo quindi è importante riconoscere il tipo di applicazione ci sono dei traffici molto comuni che però non passano più su HTTPS ad esempio Quick che viene usato da YouTube che era usato sempre di più da tanti altri servizi che quindi sarebbero invisibili al proxy e anche il fatto che come dicevo prima che il proxy web introduce uno stadio in più che ci può causare delle difficoltà a volte per capire magari quando abbiamo dei malfunzionamenti da cosa sono causati quindi è diciamo è una parte in cui i pacchetti vengono modificati che viene rimossa a tutto vantaggio della semplicità e della 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 gestione avendo tolto il proxy web è sparito anche il filtro contenuti basato su proxy web anche questo chiaramente un po' anacronistico perché come dicevo se c'è del traffico che lavora su Quick non può essere gestito e per rimpiazzare questo tipo di componente ne abbiamo però degli altri uno che è il filtro BPI il filtro applicativo che poi dopo vedremo che vi permette in maniera molto veloce di creare dei blocchi molto efficaci che in molti casi possono già essere più che sufficienti per le vostre installazioni e nei casi più delicati oppure dove volete un controllo maggiore c'è la possibilità di utilizzare il filtro contenuti su DNS di Collini di Flystart che è molto apprezzato attualmente attualmente come vi dicevo alla versione che sta per uscire quasi la Alpha 2 quindi abbiamo una versione con molte funzionalità diciamo core già presenti la MultiOne i tunnel VPN eccetera essendo ancora un Alpha e ancora per diciamo per scopi di valutazione quindi non è usabile in produzione ma perché non è usabile in produzione perché ancora diciamo possiamo permetterci di apportare delle modifiche importanti quindi non non ci preoccupiamo eventualmente di fare in modo che sia possibile aggiornarle in maniera soft quindi se magari c'è una cosa che decidiamo di farla in un modo diverso da come già adesso possiamo farlo senza senza preoccuparci ne tanto e quindi non è utilizzabile in produzione adesso vi vado a dire alcune caratteristiche della nuova versione per chi voglia già provare a metterci le mani e quindi vi do qualche qualche dritta considerate che la nuova versione necessita almeno di due schede di rete chiaramente essendo un firewall visto che quella invece precedente non aveva questo questo limite anche perché net server poteva essere utilizzato anche in modalità solo server e di default quando voi lo andate ad installare ve ne ritrovate due già configurate quindi la prima come lan e la seconda come one l'accesso web sulla porta 443 ssh di default sulla porta 22 e di default la lan lavora su un bridge brlan e ha un ip che è 1916811 in classe c e il bridge automaticamente viene attestato solo sul primo device che viene individuato ad esempio eth0 su questa lan c'è già attivo di default un server dhcp che però smette diciamo nel caso voi doveste collegarlo su una rete in cui c'è già un altro server dhcp smette di funzionare diciamo quindi se voi accendete questo firewall su una rete dove c'è già un altro server dhcp lui si ferma per non creare conflitti e a livello di one invece ce l'avete sul secondo device che individuate ad esempio eth1 avete la one che è configurata in dhcp in modo che sia molto semplice già arrivarci se anche in questo caso avete un server dhcp nella rete per quanto riguarda la nuova UI che adesso andiamo a vedere tra poco è una UI che come vi dicevo è stata ripensata tutta pensando a la grande velocità di utilizzo è una UI molto intuitiva e c'è un sistema comunque che riguarda quasi tutta la UI tranne alcuni casi particolari che ci permette di fare delle modifiche su diversi pannelli e c'è tutto un sistema di gestione di queste modifiche che ci permette di vedere cosa è stato modificato e poi eventualmente di fare un'applicazione unica oppure di fare un reverter se vediamo che le cose se vediamo che vogliamo tornare indietro perché abbiamo magari qualche dubbio su quello che abbiamo fatto un'altra cosa che è sicuramente apprezzate che le modifiche alle configurazioni di rete che adesso richiedono comunque diverso tempo e che impattano su tutte le schede sulla nuova versione sono molto più rapide e impattano solamente sulle schede di rete che andate a modificare questo significa che se io mi collego sulla one per raggiungere una blue oppure un'altra green quando la vado ad applicare non perderò mai la connessione ma verrà solamente riavviata tirata su diciamo la nuova scheda che vado a configurare vi lascio i riferimenti della documentazione quindi a docs netsecurity.org c'è la documentazione ufficiale con tutta la parte di manualistica delle sezioni che sono state già sviluppate poi per i più smanettoni c'è la parte di dev in cui ci sono dei dettagli in più su come funziona sotto il sistema ma adesso andiamo a vedere un po' di cosa stiamo parlando in modo da avere un po' un'idea quindi mi collego al nostro netsecurity quindi su 192 168 11 sono collegato sulla LAN qui ho il menu per accedere ok e arrivo atterro direttamente sulla sulla dashboard qui dove ho le varie informazioni su come è stato configurato il sistema quali sono i servizi che stanno girando il traffico delle WAN adesso questa è una macchina che è stata accesa da poco per cui non ha non ha nessun dato comunque puoi aumentare un po' il font Davide? sì mi appare una barra di là spero che non sia troppo così è posto perfetto così va bene ok e come dicevo qui adesso mancano varie informazioni perché questa è una macchina nuova in questo caso si tratta di uno di uno Z1 come potete vedere dal riconoscimento dell'hardware e qui avete le varie opzioni quindi legate all'account al tema eccetera e andiamo un attimo a vedere un po' quali sono i componenti che abbiamo in questo momento quindi abbiamo la parte di system dove sono tutte le cose relative al al sistema le varie impostazioni globali quindi dalla parte di subscription che è la registrazione che vi permette anche di abilitare il supporto remoto e che vi permette anche di attivare le firme aggiuntive diciamo sulla parte di DPI ma dopo lo vedremo informazioni generali sulle impostazioni generali sul sistema SSH con la possibilità di importare la chiave direttamente da da qui la parte di backup e restore e qui trovate la parte di migrazione vado abbastanza rapido tanto questi diciamo che sono questi sono i vari backup che sono contenuti nel centro servizi in etesis qui arriviamo sulla parte di update di cui vi parlavo prima quindi l'update è composto di due parti questa che riguarda i fix minori quindi c'è fix debug oppure piccole piccole migliorie ecco pare che ci sia qualcosa però adesso io non la carico perché sto usando un'immagine un pochino particolare quindi questa vi permette di fare degli aggiornamenti senza dover riavviare la macchina mentre questa parte qui di sotto il system update vi serve per quando esce una nuova versione e vi permette di o direttamente di fare l'update nel momento in cui esce una nuova versione in questo momento non c'è oppure di caricare un'immagine compatibile tramite tramite il il drag and drop ecco in questo caso il sistema viene riavviato e riparte sempre con le vecchie impostazioni ma con la nuova versione poi abbiamo la parte di storage che ci permette di scegliere uno storage dove vogliamo salvare i log e la parte di factory reset di cui vi parlavo prima scusate levo un goccio d'acqua che vi permette di riportare il firewall alle impostazioni di fabbrica direttamente ok andiamo a vedere un attimo dove c'è un po' più di ciccia allora la parte di network che contiene interfacce e device di nsdhcp le rotte multi one hotspot e reverse proxy attualmente allora questa che è la parte sicuramente più una delle delle parti più interessanti che è la parte di interfacce e device qui abbiamo mantenuto una diciamo una una struttura grafica che ricorda molto la versione attuale in modo da non essere diciamo da non trovarsi spiazzati da questa nuova versione migliorando anche diverse diverse cose e aggiungendo delle altre opzioni fondamentalmente qua vi trovate le varie schede che non sono assegnate sotto esattamente come adesso e le altre invece elencate prima ci sono delle delle differenze chiaramente sulla parte di configurazione appare un drawer dove voi potete andare a andare a dare un nome alla vostra nuova interfaccia tipo LAN2 potete mettere un indirizzo IP c'è qualcosa di piccolo di settings avanzati c'è il supporto all'IPv6 se volete mettere un indirizzo IPv6 qua ho scritto una cavolata ok e a questo punto il sistema vi crea questa nuova scheda come potete vedere il tutto è stato molto rapido ma ancora non abbiamo applicato questa modifica qua su mi è apparsa questa sezione che mi dice guarda ci sono delle modifiche che non sono state salvate chiaramente il numero di modifiche è legato alle modifiche che vengono fatte sotto non al fatto che io abbia configurato una scheda e qua avete i file che sono coinvolti e se dovesse essere utile per qualche motivo anche se tipicamente immagino che non verrà mai guardato a meno di problemi particolari ci sono i vari dettagli sulle modifiche che sono state fatte a questo punto posso fare un reverto oppure applicarle ecco se le applico la mia la mia scheda è già è già funzionante quindi è praticamente istantaneo il funzionamento di questa di questa cosa sulla stessa scheda se voglio posso creare degli alias 10 20 30 5 posso crearne anche più di uno anche se magari devo metterci la notazione cdr 10 10 20 30 7 ok un alias qua mi dirà le solite modifiche applico i cambiamenti che tra l'altro poi posso anche gestirli tra pannelli diversi i cambiamenti posso anche fare delle modifiche senza applicare poi andare su un altro pannello e poi applicare tutto quanto insieme ok qua ci sono gli alias che vengono realizzati adesso stiamo vedendo una versione che non è proprio l'ultimissima della parte di interfacce e devices perché è stata fatta stiamo finendo un refactoring di questa di questa sezione quindi alcune cose non sono identiche a come saranno comunque qui possiamo appunto abbiamo il bridge con la parte dei device coinvolti che è qui una cosa che è cambiata che vi dico subito è come vengono gestite le VLAN quindi fondamentalmente se dovete creare bridge e bond li fate da qua in maniera simile a come avete fatto finora per i bond ci sarà un'implementazione più completa che arriverà più avanti e per creare delle VLAN invece prima andiamo a creare il device virtuale così e ce lo ritroviamo tra quelli disponibili esattamente come se fosse una scheda fisica a questo punto lo andiamo a configurare mettendogli il ruolo che vogliamo quindi che ne so ci devo fare una one qua allora eccolo qua in questo modo questo ci permette di utilizzare anche le VLAN in maniera molto più flessibile rispetto a quello che è il sistema attuale pur rimanendo sempre molto semplice e molto integrato su come la gestione in generale del firewall approfitto qua per farmi un'altra one che mi potrà essere utile per farvi vedere un'altra un'altra cosa ok perfetto e quindi diciamo questa è la nostra gestione delle schede poi andando avanti c'è la parte DNS e DHCP chiaramente qua sono disponibili per le varie schede che abbiamo la parte di rotte io vado avanti ci sono anche le rotte V6 e vi voglio parlare invece della multi one perché questa è molto diversa da come adesso ma rimane sempre piuttosto semplice nella gestione quindi nel momento in cui noi abbiamo una multi one da dover gestire creiamo una policy di default in cui abbiamo se vogliamo mantenere il funzionamento che abbiamo sempre fatto possiamo utilizzare una balance o una backup tipo vogliamo fare una balance e utilizziamo due connettività ci mettiamo la one e la one due questa con peso 50 l'altra con peso 100 per esempio e questo sarà il nostro comportamento di default questa è la regola di default e qua abbiamo le nostre one ok questo ci dice che sono entrambe attive queste partono tipicamente come entrambe attive poi dopo il sistema mano a mano esegui i suoi ping vedete qua già sta ha capito che nella one two non c'è niente di attaccato quindi tra pochissimo sarà dichiarata non funzionante oppure potete creare una potete utilizzare una policy di backup e in questo caso vi cambia il drawer e vi fa vedere le varie priorità quindi se avete tipo tre l'anne e le volete utilizzare in backup come state facendo adesso potete dire allora la principale è questa la secondaria è questa e se volete potete mettere anche una terziaria in questo modo e così riproducete esattamente quello che fa la backup di adesso diciamo quindi prima seconda terza già organizzati in questo modo che è anche molto a livello visivo è anche molto comprensibile oppure potete fare anche delle cose un po' più sofisticate ad esempio mettiamo che questa sia la mia politica di default anzi la vado un attimo a cambiare mettiamo che di default io utilizzo la one e la one due con questi pesi ok posso voglio creare una nuova policy da utilizzare per uno specifico host creo una nuova policy che sarà la chiamerò traffico speciale che non non so che roba è e posso fare anche una policy di tipo custom quindi se ho più di due connettività posso fare anche cose che attualmente non riesco a fare ad esempio utilizzo sempre la one come one principale ma se questa cade gli posso dire di utilizzare la one due e la one tre insieme quindi queste due in balance in questo modo quindi posso stabilire una nuova policy e dire appunto utilizza sempre la one principale ma se questa cade mi utilizzi queste due insieme e poi dovrò semplicemente fare una regola per dire che un specifico indirizzo ip adesso ci metto ci scrivo centralino anche se non è vero comunque dovrà utilizzare questa questa policy per tutti per tutti i traffici diciamo che va a fare eccoci qua quindi mi verrà creata questa questa policy che permetterà a questo specifico ip di avere una una policy diversa quindi questo tipo di gestione ci permette anche di ci dà una possibilità molto maggiore rispetto a quella attuale permettendoci sia di gestire one multiple di due in modi che non potevamo fare finora sia anche di avere di stabilire un profilo per cui se voglio utilizzare tipo in una policy che non sia quella di default una one specifica e voglio fare backup solamente su una delle altre oppure non avere nessun backup posso benissimo farlo quindi posso dire che questa questa policy avrà una sola one e in tal caso se quella one mi cade non proverò a far uscire il traffico su altre one cosa che potrebbe magari avere un senso se avete una macchina che deve uscire sempre da uno specifico indirizzo ip qui ci sono le impostazioni generali che sono molto simili a quelle che ci sono adesso noi abbiamo tenuto solamente un subset di tutte le impostazioni che era possibile avere poi andiamo avanti molto molto rapidamente quindi c'è la parte di hotspot che non vi faccio vedere perché è fondamentalmente esattamente è simile a quella che avete adesso con qualche miglioria in più però fondamentalmente non ci sono grosse novità la parte di zone e policy questa è una parte che invece ci permette di editare le zone che abbiamo quindi ad esempio se ho più green posso decidere se di default se si devono vedere tra di loro oppure se devono se il loro traffico può andare verso il firewall eccetera quindi adesso non abbiamo questa possibilità sul firewall attuale ovvero le zone green blu orange e red nascono in un modo e rimangono sempre in quelle poi posso fare delle regole di firewall per modificare alcuni comportamenti ma la zona ha il suo comportamento specifico questo pannello ci dà la possibilità di essere molto più flessibili anche su questa cosa quindi anche con un semplice click di cambiare un comportamento senza andare a creare regole di firewall ridondanti tra le altre cose abbiamo il filtro contenuti di flystart che è rimasto diciamo quello fondamentalmente questo è il filtro contenuti standard non è quello pro al momento quello verrà implementato più avanti e c'è la parte di filtro dpi che invece è estremamente importante perché è completamente nuova e vi permette di creare delle regole in maniera molto molto rapida molto semplice con dei con un motore sotto che è anche molto efficace che ha un ottimo riconoscimento quindi io posso fare in questo momento delle regole sulle reti locali tipo lo faccio sulla LAN 2 e qua per le macchine registrate posso utilizzare posso andare a cercare tra più di 1700 applicazioni e protocolli le macchine che non sono registrate invece hanno il componente standard che vi permette di avere circa 400 tra applicazioni e protocolli 400 450 qualcosa del genere niente qua quindi se voglio fare magari dei blocchi social con questo sistema a toggle molto semplicemente vado a farlo oppure vado a bloccare Netflix una cosa molto interessante posso bloccare di ot e di oh per fare in modo che non venga fatto traffico dns che non posso intercettare e questi me li ritrovo subito così in maniera molto molto semplice e molto molto comoda questo sulla LAN 2 poi se voglio magari fare delle regole differenti per LAN 1 posso farlo anche per lei oppure se voglio bloccare Facebook Messenger quindi anche diciamo cose un po' più granulari rispetto a quello che posso fare adesso rispetto alle possibilità che ho che ho ora quindi ho veramente molte chiaramente posso anche poi fare delle eccezioni per fare in modo che uno specifico uno più specifici indirizzi pino siano sottoposti a questo tipo di blocco e quindi e quindi possono possono navigare sempre liberamente questa è una versione che allora praticamente per quanto riguarda lo sviluppo di NetSecurity noi al momento stiamo rilasciando tutte le varie funzionalità in alcuni casi già complete al 100% in alcuni casi un po' più base tipo in questo caso è possibile lavorare solamente su degli indirizzi ip non sono gestiti gli oggetti del firewall quelle sono cose che arriveranno in seguito in seguito comunque ecco la funzionalità diciamo base che in molti casi può essere già efficace c'è già vado a chiudere anche perché comunque di roba ce n'è vado a chiudere con il discorso delle vpn attualmente abbiamo i tunnel open vpn e i tunnel ipsec su questi non mi dilungo particolarmente sui tunnel open vpn perché fondamentalmente riproducono il funzionamento attuale con qualche miglioria adesso qui ancora c'è una cosa che abbiamo rotto ma che abbiamo già sistemato ma che non c'è in questa versione che sto usando io in cui comunque possiamo configurare il server come era come era prima le reti locali le reti remote eccetera i settings avanzati questo è il bug che vi dicevo che non li carica e poi andarli ad importare sulla parte di client come abbiamo sempre fatto la parte di ipsec anche questa è fondamentalmente per quanto riguarda la configurazione molto simile a quella attuale anche se abbiamo creato una configurazione un po' più organica quindi andate a fare la vostra configurazione prima con tutta la parte di rete poi con la parte di chiave che può essere custom oppure che generate da voi e infine e infine con la parte di cifratura la parte e che esp quindi questa rimane qui abbiamo anche degli altri algoritmi che non avevamo in precedenza ma una cosa sono due cose secondo me interessanti su questo ovvero è che in questo caso i tunnel ipsec sono indipendenti tra di loro per cui se vado a configurare o a modificare un tunnel quello non non va venivamente a dare fastidio a quelli che stanno già girando cioè non richiede un riavvio dei tunnel che stanno già girando e che sotto abbiamo creato questi tunnel ipsec tutti con la modalità sono tutti creati in modalità routed quindi che sono route based non policy based che ci permette di avere moltissimi vantaggi per quanto riguarda la gestione e il troubleshooting e la chiarezza perché ogni singola tunnel ipsec lavora su una sua interfaccia tune esattamente come succede già adesso per openvpn quindi questo è un grande vantaggio anche per la parte di troubleshooting e di gestione ok ecco queste sono le cose fondamentali che trovate adesso su NetSecurity come vi dicevo la Alpha 2 sta per uscire adesso finiamo alcuni diciamo rifiniamo alcune cose e la prossima settimana la rilasciamo in maniera ufficiale ok andiamo avanti andiamo avanti con la con la roadmap che è l'ultima cosa che abbiamo fondamentalmente in modo che sappiamo anche che cosa che cosa faremo quindi il prossimo step è il rilascio della Beta 1 che è previsto per febbraio che avrà tutta la parte di openvpn road warrior e avrà che è stata sottoposta ad una profonda revisione perché sappiamo alcune delle cose più utilizzate e più appunto utilizzate del nostro firewall quindi abbiamo preparato tantissime novità su questa e l'interfaccia delle regole firewall poi tutto il resto a seguire e quindi Beta 1 per febbraio Beta 2 per marzo release candidate aprile e stable per maggio questa è la nostra è la nostra roadmap eccoci qua eccoci qua Ale non ti sentiamo ci sono ci sono allora eccoci qua io direi che passiamo un po' le domande perché mi sono arrivate veramente veramente tante intanto aggiungo anche guardiamo se riesco a vederle anche io oppure me le dici te me le vuoi aggiungo anche Filippo che ci dà una mano anche a rispondere le varie domande che sono che sono arrivate allora intanto ti dico gestione una figata complimenti Daniele ti scrive Carlo dice molto interessante quindi tanti complimenti che sono arrivati mentre stavi parlando che non hai probabilmente visto prima domanda chiaramente rispondete voi tranquillamente dicete voi chi risponde giro i complimenti a tutto il team diciamo di Net Security tra che puoi citare diciamo sì sì abbiamo tutta la parte dello sviluppo da Giacomo a Tommaso Andrea Lucia che si occupa della parte di design Filippo che chiaramente ecco non c'è non è neanche da presentarlo quindi allora il ThreadShield chiede Luca attuale non ci sarà nella nuova versione? no c'è già attualmente manca un'interfaccia ma c'è già diciamo che noi abbiamo fondamentalmente già tutto o quasi sotto funzionante lo stiamo già utilizzando da più di un anno diciamo da noi quindi quello che stiamo facendo adesso fondamentalmente è più un lavoro di interfaccia per rendere tutte queste cose usabili e disponibili ecco nel migliore dei modi anche perché ecco avere una funzionalità è importante ma è fondamentale anche che sia usabile e fruibile quando io vi ho fatto vedere questa mattina la no scusate prima o poco fa perché stamattina abbiamo avuto un'altra cosa interna vi ho fatto vedere la MultiOne vi ho fatto vedere che con pochi click voi andate a configurare la MultiOne come volete se andate a vedere come si fa la stessa cosa sotto vedete che vi ci vuole almeno 20 minuti per fare una cosa che ho fatto in 5 secondi quindi considerando che ecco sappiamo bene che il tempo per voi è prezioso è una cosa a cui teniamo molto Sergio chiede se il blocco può essere fatto in alcune fasce orarie special dock dpi forse stava riferendo non so credo penso di sì che è l'unico blocco che ho fatto vedere in questo momento no perché come dicevo siamo usciti per quanto riguarda appunto ad esempio la parte di dpi con cose un po' più base ma in futuro ci dovrebbe essere anche quelli Massimo chiede geoblocking qualcosa rispetto a geoblocking il geoblocking c'è già qualcosa implementato sul modulo sul componente che gestisce già 3 shield che usiamo già per 3 shield poi per questo sicuramente eventualmente Filippo mi integrerà su questa cosa andiamo avanti in caso poi magari road warrior eh le road warrior come dicevo prima nella roadmap saranno oggetto del prossimo sviluppo e quindi ci saranno nella beta uno Andrea chiede se wireguard sarà implementata sì anche se prima diciamo andiamo a chiudere tutte le cose che abbiamo già e poi ci sarà anche wireguard sì sì è già previsto ok Luca chiederà world warrior ok 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 vpn chiede Giorgio ssl o ssl inspection no no allora vpn ssl al momento no ssl inspection non so se si riferisce al fatto tipo di che c'eravamo già adesso diciamo di un proxy trasparente su https chiaramente con i certificati con i certificati in quel caso per poter fare inspection però quello non c'è più un proxy quindi quel tipo di cosa non la facciamo ci basiamo su altre cose per cercare di capire cosa succede su altri indicatori allora eventualmente Giorgio se vuoi chiarire se hai risposto se vuoi aggiungere cose nel senso che se vuoi essere più chiaro su questo io tra l'altro vedo cioè sono qua e sto vedendo 20-30 messaggi sotto stanno arrivando un sacco di domande allora mi chiede a rispondere a tutte come faccio a replicare? chiede Lorenzo scenari dove i clienti richiedono di bloccare il traffico di tv e tps su alcuni cliente tranne eccezioni ai siti specifici devo per forza usare flash start e di conseguenza fagli fare l'abbonamento chiede Lorenzo allora in questo momento in realtà è una cosa che si può fare questa cosa anche se non è esposta da interfacci quindi se la necessità è quella di dire deve essere tutto quanto bloccato ma mi devi consentire l'accesso a questi 4 host o domini che siano in realtà è fattibile tecnicamente ma non c'è nell'interfaccia in questo momento chiaramente si fa tramite DNS e quindi al momento si fa con DPI però ecco se abbiamo un certo numero di richieste possiamo ragionare se chiaramente può essere una cosa che è bene anche esporre per magari evitare per una cosa così banale di dover fare un abbonamento certo noi chiaramente adesso come dicevo stiamo procedendo a step e i vostri feedback sono importanti anche per orientare gli sviluppi come lo sono sempre state allora sarà possibile fare un'indicazione PPOE su una VLAN? sì 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 ok sì sì è già possibile fondamentalmente bisogna fare una bisogna creare una VLAN e poi ci si fa girare sopra una VPO e quindi si può già fare in realtà adesso come dicevo aspettate un attimo che esca l'Alpha 2 magari per provare certe cose perché stiamo finendo di sistemare alcune cose sulla parte di interfacce però ecco da qui a pochi giorni Davide chiede se il Factory Reset chiede una conferma sì se è sicuro di non resettare sì 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 te lo faccio anche te lo faccio anche vedere ho ancora la condivisione? no non ce l'ho più sì sì ah e quindi c'è per Factory Reset ti chiede di scrivere NetSec per confermare addirittura vogliamo essere super sicuri Daniele chiede nella Road Warrior il riavvio del servizio VPN quando ne vengono creati di nuove sarà sempre presente sarà evitabile allora io immagino che sia che quando vengono creati dei nuovi account immagino che tu voglia dire no e magari dobbiamo fare il riavvio del servizio abbiamo studiato abbiamo fatto alcune alcune verifiche studiato diverse cose per cui non dovrebbe essere necessario più riavviare il servizio quindi uno lancia il servizio e poi si crea gli account che vuole e già funziona dovrebbe già essere così quando ci sarà Stemi gestionali chiede è previsto il failover su VPN e PSEC mentre per le VPN questa prima domanda è previsto il failover su VPN e PSEC al momento no però andando avanti mi hanno detto che non si possa che non si possa fare anche perché il fatto che abbiamo spostato le IPSEC su una modalità root based e non policy based ci permette anche magari di fare alcune cose che prima non potevamo fare quindi magari facendogli failover semplicemente cambiando un istradamento quindi sì le VPN e SSL non le abbiamo ho visto l'altra domanda ok ci siamo Gori chiede gli aggiornamenti del sistema quindi sono solo manuali oppure gli upgrade automatici come vengono rilasciati allora certo quindi ci sono gli aggiornamenti quelli che come vi dicevano correggono bug e cose così che sono aggiornamenti che non richiedono il reboot della macchina e attualmente sono sono manuali ma tipicamente sulle macchine enterprise dovrebbero diventare automatici per quanto riguarda gli aggiornamenti di sistema invece richiedono quindi sono aggiornamenti che portano nuove funzionalità richiedono un riavvio della macchina che tuttavia è molto rapido quindi nell'ordine di 30 secondi un minuto la macchina è di nuovo attiva ma si possono anche schedulare e pensiamo anche di metterli quindi mettere una gestione nel controller di questi per farli quando volete nel pannello sopra nel pannello che vi facevi dividere prima la parte sopra sarà manuale nella parte open e nella parte enterprise verrà fatta automaticamente la parte sotto rimarrà sempre una cosa manuale esatto esatto l'idea è questa Fernando dice bellissimo complimenti ragazzi Anthony dice complimenti vero ottimo lavoro Sandro sicuramente molto veloce aspetto attuale ottimo dice ancora Ronaldo spero di poterlo testare chiaramente spero di poterlo testare testato lo potete già testare sicuramente Andrea chiede previsto nel sito di PA la creazione di regola doc su utente non su network tipo utenti esterni attivi di diretti cose di questo genere qua allora su utenti su utenti sì è in previsione di farlo più avanti quindi quando andiamo un po' a rifinire il tutto il fatto di farlo su degli database utenti anche esterni in questo momento non te lo so dire diciamo così perché è una cosa che chiaramente coinvolge chiaramente c'è nelle nostre idee il fatto di poter anche riconoscere una cosa di quel di quel tipo anche se tipicamente coinvolge una specie di connettore qualcosa sul server AD che ci che ci dica chi è questo utente ecco per potergli poi applicare le regole sì comunque sono tutte cose che che sono previste la prima è sicuramente molto più fattibile la seconda speriamo di poter fare anche quella allora poi ci abbiamo bravissimi top tanta roba Luca regole farlo su base utente sono previste? sì anche per quello anche per quello diciamo come sopra come sopra quindi una una gestione su utente è prevista ma in una seconda battuta ecco diciamo prima andiamo a completare le funzionalità diciamo base quindi su base IP quindi IP CDR IP range e poi andiamo a mettere lo strato sopra Daniele chiede con tutte queste bellissime gestioni c'è in cantiere anche per stare in rima anche quello c'è sì adesso abbiamo tantissima carne al fuoco ok comunque ci sarà comunque tutta la parte anche di gestione centralizzata per cui sarà ci sarà anche quella parte sì allora nel nuovo Nessecurity non c'è Proxy ma in tutto l'immigrazione esportate le regole del Proxy Pass chiede Mirko se dite queste regole nel nuovo Nessecurity ah no perché sono due cose diverse cioè il Proxy mi riferisco al Proxy Web Squid che analizza il traffico che fanno i client il Proxy Pass invece è un componente che si usa per scansionare il traffico che arriva dall'esterno quindi per permettergli di arrivare su dei server quindi il Proxy Pass ovvero Reverse Proxy c'è il Proxy Web no quindi Luca il ZUI prevede la possibilità di lasciare invariata la parte di network no no la parte di network viene modificata cioè viene rimessa a default un amico chiede sempre parlando di Proxy se vuoi bloccare un gruppo di host un determinato dominio come si farà senza Proxy Web lo faremo in qualche modo come abbiamo detto come abbiamo detto prima appunto o con la parte di filtro fly start oppure se possiamo pensare anche di introdurre qualcosa più ecco in chiave blocco oppure di come nel caso di cui si parlava prima di consentire l'accesso a determinati domini in maniera in maniera semplice chiede ancora nell'interfaccia di rete non ho visto le zone blu e DMZ resta la regola green blu DMZ red sì allora attualmente nel drawer di configurazione c'è solamente green e red di fatto è possibile però creare delle zone blu e DMZ e caratterizzarle esattamente come le abbiamo sempre caratterizzate finora questa parte di blu e DMZ poi probabilmente adesso pensiamo di fare qualche modifica quindi non vado oltre diciamo a dirvi perché probabilmente cambieremo alcune cose esisterà un collegamento con Yoroi e Yomi dice con Yoroi sì c'è la parte di 3C che c'è Yomi invece è la parte di scansione della mail quindi rimane comunque fuori quello è più appannaggio di una cosa server diciamo di base non di un firewall conviene che stia magari su una istanza in cloud dove potete scansionare la mail e gestirla lì allora mi chiede se devo fare una regola di routing dove non devo uscire sulla specifica un gavan faccio una rule o devo necessariamente creare un profilo nella multivan dipende da quello che devi fare nel senso che se devi se devi fare una regola per cui non hai necessità di un backup tipo se ti cade quella one quindi che deve valere solo se c'è quella one potresti anche fare nella parte nella parte di routing però diciamo che nella parte di routing riesce a farle per attualmente riesce a fare solo per destinazione e non per per sorgente quindi io ti direi che linea di massimo ti conviene usare comunque la multi one e fare le regole le regole da lì David chiede i psds saranno presenti sì allora attualmente non c'è lo stesso i ps che stiamo usando su net security 7 ma abbiamo diciamo ci stiamo muovendo su delle altre su delle altre soluzioni ovvero questa domanda mi è utile anche per per spiegare alcune cose che non ho detto prima ovvero ci sono alcuni componenti che andiamo ad integrare su net security ancora non non ci sono in questa versione alfa 2 che ci permettono di creare delle regole automatiche e di collegarci a dei vari a dei vari trigger quindi delle regole che poi ci permettono di fatto di fare degli i ps che possono essere basati su su vari indicatori e anche di integrare questo sistema con sistemi esterni di segnalazioni diciamo che oggi come oggi è sempre più utile abbiamo visto anche in generale poter integrarsi con delle soluzioni esterne che ci permettano magari di avere degli indicatori e poter creare delle regole automatiche sul firewall proprio sulla base sulla base di questo e quindi andremo a lavorare in quel modo con magari un IPS che non è quello che stiamo utilizzando in questo momento su NetServer 7 ma che sarà almeno efficace quanto quello e ci permetterà di fare anche delle cose in maniera dinamica molto più interessanti ok Giorgio ha detto che quello che ha risposto prima su proxy certificati ok mi ha risposto bene Pasquale credo questo è un concetto che dobbiamo dire ridire e ridire chiede qui non sarà più possibile installare sullo stesso hardware moduli altri moduli come no 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 questa macchina è solo NetSecurity non è possibile mettere nient'altro su su questo su questo hardware ecco allora dice il report verrà implementato ulteriormente rispetto all'attuale report non so quale report sì 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 c'è tutta una parte di report in questo momento ancora è abbastanza consente di fare alcune alcune cose di aggiungere di pingare alcuni host oppure di visionare alcuni alcuni dati della macchina ma questo più avanti verrà poi integrato con un report più spinto diciamo in generale su tutti gli indicatori dell'attivi al firewall Orazio Chiedex sarà disponibile come verrà 7.9 una versione community non registrabile per uso personale test questo sì sì questo è già cioè chiunque in questo momento si può scaricare un NetSecurity è una distribuzione community di fatto e lo può utilizzare come diciamo come adesso diciamo chi ha la versione community non ha alcune alcune feature che magari in questo caso sono anche un po' più visibili rispetto a quelle della versione attuale ad esempio il fatto che il filtro dpi qua possa gestire più di 1700 tra applicazioni e protocolli nella versione community ce n'ha 400 oppure la gestione dei backup che in realtà se voi avete una versione community qua potete solamente caricare un backup o scaricarne uno non c'è una gestione che è quella derivata anche da My che è integrata la differenza sostanziale sarà che prima noi avevamo una versione integrale si chiamava NetSecurity e invece prima era diciamo un modulo del NetServer ok mentre adesso la versione attuale si chiamerà proprio NetSecurity sarà un progetto open source staccato quindi con la sua documentazione il suo sito eccetera eccetera e sarà utilizzabile sicuramente e chiaramente avrà una versione differenzata rispetto alla parte enterprise poi mano a mano vedremo esattamente VPN IPsec failover l'abbiamo risposto prima prima ok anche gestione degli utenti a DL ed app abbiamo risposto risposto prima Peppe chiede filtro contenuti basato sulle categorie non ci sarà più quindi DPI potrà sostituirlo totalmente come farò a creare dei filtri diversi in base a gruppi host spesso titolare scritto contenuti meno restrittivi rispetto ai collaboratori inoltre è possibile bloccare traffico verso indirizzi IP allora vorrei mettere in chiaro una cosa stiamo parlando di una versione che ancora non è quella stable definitiva quindi diciamo questo è un assaggio di quello che vi porta al nuovo NetSecurity considerate che diverse cose devono essere rifinite il filtro contenuti basato sulle categorie quindi il filtro web non ci sarà più perché abbiamo deciso appunto di utilizzare due tipi di filtraggio che fossero molto efficaci e un po' più legati anche al traffico attuale quindi magari secondo me è molto più sensato attualmente bloccare Facebook con il filtro dpi piuttosto che bloccarlo con la parte del filtro web che c'è tuttora su NetServer 7 il dpi non lo può sostituire in maniera totale però sicuramente in molti in molti casi può essere più che più che sufficiente diciamo che dipende un po' anche da la situazione a situazione quindi se non c'è necessità di bloccare porno o cose di quel tipo ma solamente di gestire un po' l'accesso ai vari contenuti social che fanno perdere tempo sicuramente il dpi è un ottimo alleato allora chiedono se il firewall in H sarà gestibile in autonomia questa è un'altra domanda Luca sì allora il firewall allora l'H è prevista chiaramente chiaramente più avanti chiaramente più avanti e sì per quella cerchiamo di fare qualcosa da gestire un po' più in autonomia rispetto a quello che c'è attualmente domanda ancora su proxy quindi il report delle connessioni generate con la SQID non ci saranno più domanda no no però ci sono degli altri report ci sono dei report ad esempio che adesso non riesco a farvi vedere perché questa questa macchina non ha non ha niente ma abbiamo dei report che riusciamo a creare grazie a Netify ID e quindi praticamente riusciamo comunque a individuare per ogni per ogni host che tipo di traffico ha fatto in ogni intervallo orario che è anche più completo ad esempio si fa solo web quello lì fa quello fa fa tutto esatto esatto quindi diciamo che sono un po' più diciamo in linea con le necessità attuali diciamo no e con il tipo di traffico anche attuali perché magari LightSquid ti permette di vedere puntualmente quello che ha fatto uno in qualsiasi momento però magari ti devi scorrere un sacco di di righe quindi poi chiaramente andremo ad affinare il tutto in modo che sia funzionale al meglio possiamo integrarlo con con altri tipi di report tipo il report delle query DNS quindi abbiamo tutti gli strumenti per fare qualsiasi cosa fondamentalmente si può dire che non abbiamo una chat calda 20 minuti che rispondiamo a domande allora andiamo avanti andiamo avanti prevista integrazione con ZTNA adesso per il momento ancora no andiamo avanti con questo tipo di domanda sempre su WPN SSL no per il momento no gestione dei log diviso per moduli o in generale la gestione dei log allora il log in realtà è unico su questo su questo tipo di soluzione quindi tutti i log vengono scritti su un unico file e chiaramente nella gestione dei log sarà sarà possibile poi dopo andare a ricercare quello che ci quello che più ci interessa Luigi ci chiede dov'è possibile scaricare una iso per provare allora la iso per provare è docs.netsecurity.org e più vi invito di andare sulla nostra community partner.netius.it leggetevi l'annuncio che ha scritto Davide un tempo fa quindi avete anche tutte le indicazioni che volete e riportateci lì il vostro feedback quindi se l'avete provato se provatelo diteci come vi trovate cosa avete provato eccetera eccetera quindi se ci riportate l'altro contributo è sicuramente utilissimo Davide tra l'altro consiglia anche chiede anche dove come approvarlo cosa testare in particolare spesso si capita dice Daniele di lavorare su più fare o di uno stesso cliente con 6-7 sedi potrà sarà possibile avere qualcosa diversifico l'interfaccia banda colore diversa personalizzabile oddio questa è una domanda molto molto particolare in questo momento non è previsto niente però potremmo pensare a qualcosa che aiuti tipo già mi viene in mente se già nella parte in alto ci fosse scritto lost name oppure qualche informazione abbiamo anche dello spazio potremmo già magari avere qualcosa in più per riconoscere già sapere già col podocchio su quale schermata siamo ad esempio se ne può parlare c'è una cosa che ha chiesto mi ricordo anche in passato ancora la vecchia versione Nicola chiede se potranno essere installate sotto i terzi parti tipo controller unify questo abbiamo già risposto non sarà possibile no 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 Marco il proxy è stato rimosso sarà rimpostato con un inspection ssl con il certificato del device no è quello che abbiamo detto prima è possibile personalizzare ecco personalizzare l'interfaccia wii per utenti diversi chiede Luca quindi accesso ai modi personalizzato ad esempio sulla visualizzazione la visualizzazione più granulare allora noi abbiamo previsto diciamo fondamentalmente questo tipo di approccio questa che vedete voi è l'interfaccia da amministratore e qui c'è tutto c'è la possibilità ci sarà la possibilità di definire più amministratori che possono entrare qui e fare tutto chiaramente quando entra un amministratore il suo username viene loggato sul sistema nessuno entra come root in modo che ognuno sia inchiodato alle proprie responsabilità e c'è anche un log di tutte le azioni che vengono fatte sull'interfaccia poi c'è è prevista un'altra interfaccia per l'utente finale che è diversa da questa dove potrà andare dove ad esempio potrà scaricarsi il suo certificato vpn in modalità self-service oppure ci sarà un link al client o altre informazioni oppure la possibilità di scaricare il QR code per per l'otp eccetera però ecco non è non è previsto un qualcosa che ci mostri tipo questo tipo di pannello privato di alcune sue funzioni fail to ban ovviamente sì sì fail to ban ovviamente sì ma è veramente fatto adesso sì fatto diciamo in un modo o nell'altro comunque sì la funzionalità è quella mettiamo avanti si potrà installare router compatibili su router compatibili con un po' rettifili poi ho detto no sì è chiaro perché noi sviluppiamo una versione che in questo momento è per x86-64 in futuro potremo sviluppare qualcosa per qualche board per qualche hardware specifico ma chiaramente non non supporteremo mai tutta la pletora di di board compatibili con un po' RT dice se per il restore non è più possibile accedere alla macchina c'è la possibilità di recuperarlo se il restore non fosse più accessibile cosa no per il restore se non fosse più accessibile chiariscici magari meglio la domanda perché non c'è molto chiara quindi se la macchina non è più accessibile ed è registrata c'è il backup su my ok sì diciamo quello si abbia interpretato bene così Matteo chiede ci sarà la possibilità di quello che hanno chiesto prima quello che hanno chiesto prima di direttori ok vi ringrazio devo scappare ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ci salutano tutti io direi che ci siamo abbiamo risposto un po' tutto perché non arrivano domande all'ultimo minuto ci siamo fatti in mezzo delle domande quindi diciamo ci siamo sì 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 chiede ancora il successo a Facebook non so già risposto prima rispetto a questa cosa se vuoi dare l'amministratore delegato si può mettere tra si può mettere tra gli IP che non devono essere filtrati e quindi lui può andare dove gli pare questo per rispondere a Peppe vi ricordo solo questa cosa che appunto stiamo parlando di una versione che al momento è in Alpha 2 e quindi provatela sapete sappiamo già che ci sono delle cose che sull'interfaccia che non funzionano abbiamo già tutto quanto segnato comunque ci aspettiamo i vostri feedback per migliorarla sempre di più e renderla sempre migliore Riccardo chiede certificati Let's Encrypt sì ci sono ci sono ah ecco Andrea chiede se sarà possibile esportare la configurazione per clonarlo su eventuali altri firewall se avete già pensato una possibilità allora Andrea visto che mi chiede questa cosa ne approfitto per dire una cosa un po' un po' particolare che in realtà poi è molto è molto è molto semplice però visto che me l'ha chiesto vuol dire che gli interessa particolarmente già da subito è possibile utilizzare la chiavetta usb diciamo per farsi una propria configurazione personalizzata come funziona perché la nostra chiavetta quando voi vi scaricate l'immagine e la scrivete sulla chiavetta usb di fatto voi lanciate avete un'immagine avviabile quando voi eseguite ns install quello che vi dicevo prima che dovrebbe essere qui da qualche parte aspettate che sposto un attimo un po' di cose esatto quando andate ad eseguire ns install questo tipo di procedura cosa fa prende fondamentalmente quello che c'è nella chiavetta e lo scrive e lo spara direttamente sul vostro storage questo vi permette anche quindi di fare una cosa di questo tipo voi se volete potrete prendere la vostra chiavetta configurarla come volete con l'indirizzo IP che volete server DHCP regole di file tutto quello che volete e una volta che l'avete configurato diciamo con la configurazione che vi piace andate ad eseguire ns install la macchina lo storage a questo punto vi viene scritto già con le vostre impostazioni quindi questa chiavetta se voi poi dopo la prendete la mettete in altri box e andate a scrivere lo storage con questa chiavetta tutti vi verranno fuori con queste nuove impostazioni quindi questa è una possibilità che c'è già attualmente potete farlo già da subito che è molto che è molto semplice diciamo che questa cosa rimane nasce e muore all'interno di quella di quella di quella chiavetta quindi se voi fate un reset a factory default vi tornano fuori i default classici non i vostri però già diciamo questa cosa voi sapete è anche un bene nel senso che è bene che quando uno fa reset a factory due volte sia sicuro però questa cosa già si può fare allora per chiudere diciamo che sono andata altra domanda ribadisco che questa chiaramente non è la presentazione della versione di Nesse Kurti questa stiamo attendendo la versione alfa 2 quindi questa è una presentazione dello stato attuale del progetto vedere le cose attuali ci sono ci saranno tante cose in futuro tante cose che miglioreranno e tante cose che usciranno nuove su questa su questa versione secondo la roadmap che ha fatto vedere Davide vi invitiamo a testarla a cominciare a studiarla a provarla non in produzione ovviamente a entrare sul nostro community e darci il vostro feedback perché chiaramente già un sacco di persone hanno cominciato a entrare nel nostro quality team di Net Security e quindi darci il loro feedback e riportateci cosa va cosa non va così lo diciamo lo costruiamo insieme anche siamo in una fase anche molto ricettiva rispetto ai feedback che stanno arrivando e anche le varie opzioni e le varie cose che via via Davide anche rispetto a questo webinar qui sta raccogliendo anche per diciamo anche muovere il prodotto da una parte dall'altra in base anche alle vostre suggerimenti o anche alle vostre priorità per cui penso che sia una fase veramente utilissima un po' per tutti e vogliamo un po' anche costruirlo un po' insieme a voi tanto grazie a tutti è stato veramente interessantissimo un'ora e mezza di webinar con tanta tanta carne al fuoco grazie Davide tutti ci ringraziano del bellissimo vi ringraziano del bellissimo lavoro grazie a voi per la vostra partecipazione e il vostro supporto ci vediamo mercoledì altro webinar su mezzalverotto questa volta non venerdì ma mercoledì che anticipiamo prima delle vacanze quindi mercoledì 20 alle 15.30 prossimo webinar sempre su questi schermi come dicono quelli bravi ciao Davide ciao a tutti grazie a tutti ciao 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 arrivederci